La felicità è quando il daddy torna e ti porta schifezze americane, tipo il Cheetos Limited Edition Hashtag Ketchup Toast Gusto Ketchup Toast Vogliamo parlare delle patatine Pizza Heart Vabbè E dei brownies Proprio americanissimi E questi Cheetos qui che sono Nicola, spiega Allora, con questi Cheetos Si vuole andare a Carta sasso pubblico You can say it in English A rock, paper, sitter, shoot Ecco, infatti c'è anche scritto sulla confezione Sì E queste sono patatine No, vabbè Quindi queste sono le scissors La paw Ah, la paw, la zampa Questa è la rock Da non tralasciare questa cosa terrificante Che Ecco Questa è la nostra visione diversa del cibo Che è la crema di marshmallow Che è terrificante Ma a loro piace Delicious C'è anche scritto delicious Ma come on Brownies americane Sì, vabbè Con tanto di statua della libertà E quindi proprio Con i pezzi di cioccolato Con i pezzi di cioccolato Attenzione Vero, Niki You'll like them Sì, vabbè Ciao